Novità in arrivo nel sistema di raccolta dei rifiuti per chi vive e lavora in centro a Pordenone. Per ridurre ulteriormente i costi del servizio e dare più valore ai materiali riciclabili raccolti, l'amministrazione comunale, in collaborazione con la società GEA, ha deciso di modificare l'attuale sistema, intervenendo sulle frequenze e sulle modalità di raccolta. L'assessore comunale all'ambiente Nicola Conficoni. Il primo dicembre cambia la modalità di raccolta dei rifiuti all'interno del ring in centro città. Grazie all'introduzione della raccolta porta a porta, avvenuta ancora alcuni anni fa, alla collaborazione dei cittadini, la raccolta differenziata ha raggiunto e superato l'80%. È un dato da primato che ci riempie di soddisfazione e che ci ha visto anche assegnare il prestigioso riconoscimento da parte di lega ambiente del comune capoluogo di provincia più riciclone d'Italia. Ciò nonostante, riteniamo che la priorità sia quella di limitare il costo di gestione del servizio in modo tale da poter consolidare la riduzione delle tariffe già applicata quest'anno. Per questo motivo abbiamo deciso di avvicinare il livello di servizio praticato in centro città a quello negli altri quartieri. La raccolta del rifiuto seco residuo avverrà una sola volta alla settimana e non più tre come oggi e la carta andrà raccolta separatamente dalla plastica e dalla lattina e non più insieme, tant'è che un apposito contenitore dedicato verrà consegnato durante il mese di novembre alle utenze. Un obiettivo importante che grazie al senso civico e alla disponibilità dei pordenonesi sicuramente riusciremo a raggiungere. Per consentire la massima informazione sono stati organizzati due incontri pubblici che si terranno martedì 28 ottobre nella Sala Conferenze della Biblioteca Civica e mercoledì 29 ottobre nella Sala Incontri dell'Ex Convento di San Francesco.